Il nuovo decreto del Governo, che entrerà in vigore dal 6 agosto, prevede l'estensione dell'obbligo del Green Pass, permettendo solo a chi vaccinato o in possesso di un tampone negativo l'accesso nei luoghi più affollati, specialmente in quelli al chiuso. In semplici passaggi vi spiegheremo come scaricarlo, partendo dal fatto che il certificato verde potrà essere ottenuto in forma cartacea o in forma digitale. Nel primo caso significa possedere la certificazione di immunità su un foglio, mentre nel secondo averla su un codice QR. Ma come fare per scaricarlo? Il primo passaggio è andare sul portale dedicato, digitando certificazione verde sul motore di ricerca e cliccando sul primo sito che appare in schermata. Una volta aperto, notiamo la voce come ottenere la certificazione ed entrandoci troviamo 4 link differenti per ottenere il Green Pass. Se si clicca sul primo link, tramite questo sito, è necessario inserire i dati della propria tessera sanitaria per poter scaricare il certificato verde. Il secondo sistema è quello di ottenerlo tramite il fascicolo sanitario elettronico, cliccando sulla regione di appartenenza. Una volta effettuato questo passaggio, selezionare o accedi al servizio o certificato verde vaccino, dopodiché autenticarsi con speed. Superati questi passaggi, il libretto vaccinale viene automaticamente scaricato in PDF. Il terzo modo per ottenere il Green Pass e farlo in maniera più semplice, è necessario cliccare su tramite app, scaricando l'app Immuni o l'app Io, disponibile per Android e Apple. L'ultimo sistema per accedere alla certificazione è quello di cliccare sul link con l'aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta o farmacie, dirigendosi successivamente dal medico di base o in farmacia per poter ricevere direttamente il certificato.